www.redigio.it e la storia continua Per levare le mense Pratico e versatile nella casa medievale il tavolo è uno degli elementi più funzionali anche perché si smonta e si rimonta all'occorrenza E' noto che il termine mobile deriva dal latino mobilis voce del verbo muovere che significa muovere e in effetti fin dall'antichità molti arredi erano costruiti in modo da essere smontati o ripiegati così da lasciare vuoto lo spazio centrale dei vari ambienti della casa per renderlo disponibile ad attività diverse Uso questo che si è protratto almeno fino al XVIII secolo anche quando i mobili ripiegabili costituivano una piccola parte dell'arredo sta di fatto che durante tutto il Medioevo la mobilità delle cose e delle persone fu un tratto caratteristico di questa società Montati su Trespolo Tra gli arredi il tavolo o desco come a volte era chiamato è l'esempio più tipico di questa concezione dinamica dell'arredamento pur se esistevano tavoli fissi e collocati stabilmente in alcuni ambienti della casa è certo che questo mobile fosse nella quasi totalità dei casi smontabile e composto da cavalletti di sostegno detti anche Trespoli Trespiedi o Trespodi su cui venivano legnate delle assi tenute insieme da alcune traverse fissate nella parte inferiore e se ne comprende anche la ragione visto che il tavolo era usato principalmente durante il consumo dei pasti in ore più o meno fisse della giornata a cui termine per il cibo di vita che si svolgeva nelle abitazioni la sua presenza non era ritenuta più necessaria da questo uso nacque il modo di dire levar le mense o secondo l'espressione del boccaccio levare le tavole che in seguito equivalse a sparecchiare ma che allora aveva il significato letterale di togliere i tavoli tovaglie pregiate se la casa era grande e il tavolo smontato veniva sistemato in una stanza a ripostiglio altrimenti assi e cavalletti ripiegati venivano addossati a una parete nello stesso locale destinato ai pasti nelle immagini dell'epoca in cui sono raffigurate scene conviviali i tavoli sono sempre ricoperti da grandi tovaglie che a dispetto dalla rusticità dei cavalieri che si intravedono testimoniano con il loro grado di bellezza lo status sociale del padrone di casa in effetti gli uomini del medioevo non ritenevano di poter abbellire un mobile che era in parte nascosto da una tovaglia al più si potevano rifinire con maggior cura le gambe dei cavalletti aggiungendo dei semplici decori i cavalletti come quelli odierni avevano la forma di V rovesciata e per dare maggiore stabilità si inserivano a traversa rendendoli simili a una A il cui triangolo superiore poteva essere un pannellino con i bordi traforati o decorati con uno stemma abbastanza diffusi erano anche i cavalletti a tre gambe che nelle raffigurazioni appaiono disposti sempre con la gamba singola verso chi era seduto per consentire un più agevole movimento degli arti inferiori i cavalletti a V rovesciata erano i più semplici e di solito venivano incernirati nel punto di raccordo per poterli ripiegare erano i tre spiedi desnodati le tavolate all'aperto la fortuna dei tavoli a cavalletti durò a lungo per la loro praticità e per la indubbia componibilità visto che in presenza di numerosi commensali potevano essere sistemati a L o a U o in file parallele inoltre erano perfetti per le feste e i pranzi che si svolgevano all'aperto sotto un porticato o un giardino anche se smontabili i tavoli potevano essere lasciati al loro posto se l'ambiente in cui si trovavano non era destinato ad altri usi come nelle sale da pranzo o di alcune case signorili dove il tavolo era utilizzato come scrittoio un desco da scrivere o nel refettore dei conventi in questo caso non era raro che sotto i tavoli fossero sistemate delle pedane per rendere più confortevole la permanenza altri tavoli fissi erano quelli che venivano sistemati in ambienti rivestiti di legno come le stufe nordiche locali con quasi tutti gli aredi fissi e riscaldati da una stufa dove le panche erano tutt'uno con la parete oltre i tavoli a cavalletto non erano rari quelli provisti di un sostegno centrale nel qual caso il piano poteva essere anche di forma poligonale o circolare in alcune raffigurazioni vi sono anche tavoli montati su cavalletti con un piano tondo ma la loro dimensione in genere era ridotta avendo essi una funzione di appoggio i tavoli più piccoli non essendo smontabili potevano avere anche le tradizionali quattro gambe fisse e il piano quadrangolare ed esseri impiegati in vario modo messi accanto al letto fungevano da comodini sistemati nelle sale da pranzo erano usati per disporre le pietanze o per tagliare la carne prima che fosse servita oppure costituivano comodi piani di appoggio per i lavori domestici ma la storia non finisce qui perché continua con la prossima puntata www.redijow.it e la storia continua and piani non minimis ancora ti è